È un clima di assoluto equilibrio, nel senso che non eravamo scarsi dieci giorni fa e non siamo dei fenomeni nemmeno oggi. Equilibrio, analizziamo errori e cose positive in modo da lavorarci meglio, visto che abbiamo qualche settimana un po' più lunga rispetto a tutti questi turni infrasettimanali che abbiamo avuto e possiamo lavorare anche sull'aspetto fisico che magari non si poteva caricare tanto. Penso che la parola più giusta da utilizzare in questo momento sia equilibrio. Penso che partite semplici non ce ne siano, anche perché abbiamo visto altre squadre che magari sulla carta non hanno un nome importante è una storia importante, andare su campi di squadre costruite per vincere e creare comunque grattacapi. Penso che sia una partita da preparare con assoluta concentrazione, nei minimi dettagli come abbiamo sempre fatto, consapevoli anche del fatto che è una partita che giochiamo in casa, visto che la gente ci sta spingendo in una maniera importante e abbiamo trovato degli equilibri importanti da sfruttare e da cercare di portare a casa altri tre punti. Ma ho sempre giocato gran parte da solo in carriera. A Pordenone ho giocavo 4-3-3, a Venezia 4-3-3, a Cremona 4-3-3, a Taranto 3-4-3-4-3. Cioè è un modulo che mi piace parecchio. Beh sì, è un periodo che ci farà capire anche di che pasta siamo fatti dal punto di vista nervoso, perché sono partite che dal punto di vista della concentrazione e dell'attenzione magari in settimana si preparano anche abbastanza facilmente. Sai, vai a giocare a Bari, 15-20 mila spettatori, però secondo me è meglio ragionare una partita alla volta. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Mari Lungo quando Atalanta ha fatto il passaggio tra la società Ruggeri e i percassi e mi aveva impressionato. Poi la sfortuna, qualche infortunio di troppo, l'ha buttato nella categoria più bassa. Penso di aver visto un giocatore di una categoria incredibile. Antenucci l'ho visto solo su Sky. Penso siano quelli. Denis, mi pare, ho il primo o il secondo anno che facevo il settore giorni dell'Atalanta, lui era appena arrivato. I tifosi, la gente avevano qualche dubbio su di lui. Mi sono allenato dal vivo, un animale incredibile. Corazza mi ricordo che ci affrontiamo da quando siamo altri così. Quindi sono qua i Dennis, Mari Lungo e Antenucci, penso, anche per quello che hanno dimostrato in categorie importanti, sono i migliori.